Un cordiale saluto ed una buona giornata dalla redazione di Firenze Smart in studio Nicola Giannattasio. Sulla Fipili in direzione mare per un veicolo in avaria a un chilometro di coda tra Firenze Viadotto dell'Indiano e Firenze Scandicci. Sul raccordo Siena-Firenze per lavori ci sono rallentamenti in entrambe le direzioni tra San Casciano e Imprunita, greve e inchianti. Il traffico scorre invece regolare su tutta la rete autostradale della Toscana. Fino a metà febbraio la statale 1 Aurelia sarà chiusa a Pisa in corrispondenza del Bivio per Coltano per lavori di ricostruzione del Cavalcavia. Ricordiamo l'obbligo di dotazioni invernali a bordo, catene da neve o pneumatici stagionali. Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, città metropolitana di Firenze e Comune di Firenze. Buon viaggio! Buon viaggio!